Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon carnevale, sempre in testa, sempre in pista, sempre a tavola. Soprattutto noi vorremmo darti questo, che è un bacio dei dolci tipici della zona e quindi fa perdere anche per te, per la tua palla pazzetta. Grazie. E qui abbiamo invece il piatto dello stemma di Castel Rosso di Chivasso. Carnevale Castel Rosso, grazie mille. Voi avete mangiato Don Gravone, io mangio voi, con questo pensiero di vivere la terza, che siete stati i nostri ospiti, a te, appaggiamo dalla Alpignano Coppe. Grazie, grazie mille i conti. E' andata anche un'altra puntata, tutto bene? E' andata un'altra puntata, ci sarà lunedì prossimo altri due grandi, grandi artisti. Bene, non mi resta altro, non ci resta che augurarvi una buonanotte, una rivederci a presto, vi ricordo, questo serve ancora con le qua, io vi ricordo ancora prevenante degli appuntamenti per quanto riguarda la danza con l'orchestra del Gallo, che sono per giovedì, giovedì 24, vi aspettiamo per la prima volta al Bolero di Corso Taranto, a Turing, va bene, dall'amica Valentina Falco, che salutiamo. Venerdì 25 al Globo di Borgo Vercelli, per la prima volta, speriamo che sia anche il primo di la Lunga Series per Roma, e poi sabato 26 al Fontino di Faesana. Detto questo, mi è sentito turno a Pina e qui, canta alle mondine, ci congediamo con le voci delle mondine. Una canzone per lei, no? Oh, dimmi tu, scusa, è la Monachella. La Monachella, viva le Monachelle, viva le Mondine, soprattutto il Monachella! Anche la musica!